Buongiorno e benvenuti alla nuova modalità di video vlog ovvero in macchina la mattina alle ore 7 e 40 sono parcheggiata in mezzo alla strada perché un mio povero collega si è rotta la macchina e mi vedete in mezza faccia perché vabbè possiamo fare così anche che genio ce l'ho fatta si è rotta la macchina sta venendo in autobus e ho detto vabbè dai vengo a prenderti a metà strada che più o meno è la strada che faccio io qui sono abbastanza tranquilla non dovrebbe passare nessuno se basta qualcuno passerò per pazza ma a torino ci sono tanti pazzi quindi non fa niente cosa vi racconto c'è un dramma in corso c'è un dramma in corso perché pupa ha fatto uscire questa collezione velvet mat io sono andata a vederla ieri ragazze non non devo uscire di casa ho capito che il trucco è non uscire di casa se esco di casa faccio danni pupa ultimamente mi ha dato delle belle soddisfazioni dal punto di vista spending money vi faccio vedere cosa ho preso di questa collezione è tutta colpa di ornella ornitorella e di alessia fashion makeup 89 che mi fa sempre vedere queste cose o possano link mettono swatch io voglio sempre tutto allora c'è di peggio nel senso che ho preso un bello occhiaio che abbiamo anche presso ho preso un pezzo per tipo ovvero un ombretto un mascara uno smalto e un rossetto ma penso che andrò a prendere altre cose una volta testata la tenuta normalmente faccio vedere le cose indossate oggi invece ve le faccio vedere proprio nuove se la tenuta è buona io penso che andrò a prendere altre cose perché i rossetti sono fighissimi gli ombretti ce n'è uno il più scuro di questo che mi piace secondo me il più chiaro rispetto a questo il taupe usati insieme secondo me sono bellissimi il mascara non lo so e sono tutti belli vabbè vi faccio vedere cosa ho preso allora cream eyeshadow vamp pupa velvet matte il colore che ho preso io è il 601 ve lo faccio vedere eccolo qui non so neanche dove sia la videocamera qua qua ok ed è questo taupe scuro grigio topo grigio top eccolo qua non ve lo faccio vedere swatchato perché poi come mi pulisco le mani essendo in macchina mmm ve lo faccio poi vedere applicato poi smalto anche questo effetto opaco è un color ruggine questo è lo 003 fate com'è bellino è bello adesso poi mi leverò lo smaltino questo di essi che ho su e lo andiamo a provare e poi ho preso il miss pupa velvet matte colore 102 ma ce ne sono di bellissimi se veramente viene confermata la tenuta mi piace questo vlog in macchina volevo un nude volevo un nude opaco non ne ho tutti gli altri sono un po' sheer quelli che ho li volevo un nude opaco facciamo che domani me li metto tutti e vi faccio vedere come sono applicati e poi ultimo prodotto per chi tra l'altro fosse interessata ho trovato tutto alla da douglas douglas mi piace perché ha sempre tutte queste belle collezioni prima di sephora almeno qui in zona io ho preso il pupa vamp anche questo dovrebbe dare un effetto opaco anche il mascara non lo so comunque ho preso questo il viola pugna basta vi faccio vedere se volete anche i campioncini perché il cellulare regge ancora per un paio di minuti di filmato mi hanno dato furiosa fendi profumino il figure woman profumino j'adore l'absolu profumino poi una mini taglia di dior fondotinta perché mi finiscono i minuti e poi clarence delle robine per il viso una crema viso un anti age mi danno l'anti age è una crema sempre desalterante idratante basta questi sono gli acquisti di ieri mi viene una fronte così più o meno filmando col telefono deve stare così questi sono gli acquisti di ieri noi ci vediamo al prossimo video fatemi sapere se avete già preso qualche cosina di questa collezione o se avete intenzione di andarla a sbirciare veramente fig e noi ci vediamo presto ciao grazie